Salve a tutti, oggi vedremo un'alternativa di come registrare lo schermo del nostro device che potrebbe essere un iPhone, iPad e iPod Touch. È stato testato su iOS 9, iOS 10, non necessita di J-Break, non necessita di PC. In questo caso lo stiamo testando su un iPhone 7 con iOS 10.2. Allora, andiamo su Safari e incollate o cliccate sul link che trovate all'interno sotto della descrizione e andiamo su questo sito. Dopodiché pigiamo su questa iconetta verde, ci chiederà di installare questa applicazione. Tendiamo un attimo e facciamo install. Usciamo da qua e vediamo che lui la sta scaricando. Una volta terminato il download andiamo su Impostazioni, Generali, Gestione dispositivo e Shanghai TIC Industrial e diamo l'autorizzazione a questa applicazione. Facciamo Autorizz, usciamo da qua, andiamo sull'applicazione, la apriamo e abbiamo due... Scuorriamo le tre pagine e poi clicchiamo sull'iconetta verde e poi su questo tasto. Dopodiché abbiamo due possibilità di registrazione, o in maniera orizzontale o in verticale. Selezioniamo quella verticale, da questo momento sta registrando, ci sta chiedendo di accedere all'applicazione, vuole accedere al nostro microfono, diamo l'ok e registriamo quello che vogliamo. Che so, qualsiasi cosa. Andiamo su Musica, chiudiamo. Poi ripremiamo qua solo sulla barra rossa, riva nell'applicazione e facciamo Stop. Allora, in questo caso abbiamo il video che abbiamo registrato in questa posizione. Se lo vogliamo salvare nel nostro rollino, dobbiamo pigiare qui su questo tasto in alto a destra, selezioniamo, mette questa spunta blu e poi clicchiamo su qua nel mezzo, uno di queste tre tasti in basso nel mezzo. Lui ci chiede l'autorizzazione per accedere alle nostre foto, gli diamo ok, diventerà verde, in quel caso lui ci dà la conferma che ha registrato, ha memorizzato il video non appena registrato nel nostro rollino. Facciamo una prova, andiamo a vedere. e punto, è qua sotto. Basta che lo apriamo, facciamo play, andiamo l'ok e registriamo quello che vogliamo. E abbiamo visto anche il video. Andiamo Stop. Spero di essere stato utile anche ad oggi, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Spero di essere stato utile anche ad oggi, ci vediamo al prossimo episodio.